Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di uno Football Manager 2018 per continuare la nostra carriera con il nostro mitico United on Manchester E oggi andremo a vedere solamente la partita con il Lincoln Questo perché? Perché oggi ovviamente è Pasquetta, vi voglio fare veramente tantissimi auguri Spero che ieri abbiate passato una bella e una buona giornata di Pasqua Che abbiate mangiato, che vi siate divertiti e che soprattutto siate stati bene E oggi lo stesso, ovviamente tanti tanti auguri di buona Pasquetta E so che molti di noi, molti di voi usciranno, andranno a fare braciate fuori, ristoranti e simili Proprio per questo preferisco fare un video un po' più corto, quindi con una sola partita Che potete vedere quando vi pare, quando vi state vestendo, quando state in bagno, in macchina Mentre state arrivando nel posto dove andate, insomma quindi, proprio per questo oggi vedremo solamente una partita Lo scontro che vi ho saltato contro il Cambridge, abbiamo vinto a 2-0, gol di White Che oramai segna sempre E gol di Muldoon, che praticamente dopo il rinnovo e dopo l'infortunio è rinato E ha segnato appunto un altro gol, tant'è che mi ha pure ringraziato dopo la partita con lo Sweeton Quindi veramente complimenti E però raga il Bristol vince sempre, insomma è infermabile, quindi siamo sempre solo a più 3 dal Bristol Però siamo a più 10 dal Lincoln, quindi veramente tanta tanta roba Io ripeto, il mio obiettivo è sempre arrivare secondo, terzo, giusto per arrivare poi diretti in terza categoria E quindi già stare a più 10 anche dalla quarta è un bel passo in avanti Anche se adesso, proprio ora, andremo a giocare contro il Lincoln Che sicuramente cercherà di fare la partita della vita, di rubarci dei punti E quindi dobbiamo starci veramente molto attenti E sperare anche che il Bristol, che gioca contro il Cheltenham, perda Anche se la vedo molto dura, perché veramente sono infermabili Non vi ho fatto vedere la formazione titolare, perché praticamente è la solita Giochiamo con gli stessi, anche perché hanno riposato per una settimana intera Quindi sono anche freschi e meglio così Mi fa piacere anche che a parte il terzino sinistro, che è in prestito Abbiamo tutta la squadra titolare, o meglio, scusate Tutta la difesa di proprietà, fra cui anche Allison E questa è una cosa relativamente positiva per gli anni prossimi Anche se adesso il Lincoln ci inchiappetta e segna il gol dell'1-0 Io intanto avevo detto di concentrarsi, ma forse l'ho fatto troppo tardi Bravo qui Allison, ma più che concentrarsi dovrebbero fare qualcosina in più Perché Lincoln ci sta abbastanza schiacciando Il Bristol sta pareggiando, meno male Siamo 1-0 purtroppo per loro Io provo a chiedere di più alla squadra che si sta leggermente riprendendo Dopo il gol della squadra avversaria, della squadra terza in classifica Io intanto mi permetto ancora ogni tanto di vedere anche il Bristol che cosa combina Perché ci sta a perdere ragazzi Le stiamo vincendo veramente tantissime Le stiamo vincendo e parigiando molte Però mi scorcia vedere il Bristol praticamente dominare quasi quanto noi E' giusto un fatto di soddisfazione E' rimanere ancora un po' lì al primo posto Io cerco di spronare la squadra Per fortuna nessuno si è incazzato Io intanto vedo ancora il Bristol che sta ancora 0-0 Intanto mi immagino già il gol al 94esimo secondo L'ultimo secondo del secondo tempo Però vabbè Cerchiamo di concentrarci sulla nostra di partita Cerchiamo di chiedere di più C'è Andrew che è stanchissimo E quindi mettiamo Knot E poi vediamo insomma per il momento Lasciamo le cose così E speriamo che la squadra si riprenda Avevamo finito il primo tempo in un modo comunque decisamente buono Bellissima questa inquadratura C'è Muldoon, c'è MacDonald Ma che cavolo Stupenda proprio Voglio vedere sempre il Bristol che cosa combina Noi ancora nulla Anche se bene o male ci stiamo riprendendo Io provo a chiedere sempre un po' di più Sarebbe figo trovare il gol del pareggio Giusto per mantenere 10 punti di distacco E per semmai Mantenere i 3 punti di distacco dal Bristol Sempre se non segna C'è Ruan C'è Logan Ruan per Walker Walker per Logan Logan per Knot C'è Muldoon Muldoon per Knot C'è Bilei Bilei La passa a MacDonald MacDonald per Knot C'è Muldoon Bravo qui per Logan Harry White Harry White Ma perché? Dai E qui Proviamo il tutto per tutto Mettiamo la cavalleria pesante Mettiamo Luchino Loft Mettiamo Luchino Loft Potremmo anche levare Muldoon E mettere Sparta E provare a giocare un po' più offensivi Tanto perdere 1-0 Perdere 2-0 Non mi cambia la vita Quindi vediamo un po' Se riusciamo a dare uno scossone Alla squadra Diciamo di andare avanti E vediamo un po' che cosa combinano Anche se La partita sta quasi per terminare C'è Corroi Lo sapevamo che Potremmo rischiare il 2-0 Per fortuna non ci segnano Io intanto butto sempre un occhio al Bristol Stanno ancora 0-0 E la cosa non mi fa schifo Noi qui Mi sa che abbiamo perso Peccato ragazzi Veramente è peccato Perché comunque Stiamo giocando anche abbastanza bene Il Bristol mi sa che è appareggiato Spero Lo voglio sperare Con tutto me stesso Mancano gli ultimi 4 secondi Vabbè L'arbitro A breve Fischierà E sono ripeto Curioso di vedere Il Bristol Come termina La partita 1-0 E finisce il nostro Periodo d'oro Dove praticamente Vincevamo e pareggiavamo Tutte qui in campionato Non sono felice del risultato Anche se ragazzi Veramente non si può dire niente Abbiamo comunque fatto Ragazzi 17 risultati utili Quindi Veramente Non possiamo dire nulla Alla squadra Per fortuna Alla fine il Bristol Ha pareggiato Quindi siamo a più 2 Dalla seconda E a Più 7 Dalla terza Insomma Va bene così E a più 9 Dalla quarta Questo è più che altro Quello che mi interessa E a più 10 Dalla quinta E dalla sesta Insomma Ripeto Non ci possiamo proprio lamentare La prossima partita Sarà abbastanza easy Contro il Port Valens Quindi speriamo di vincere Speriamo che il Bristol Inizia a perdere Qualche punticino E quindi niente ragazzi Lo so il video È molto breve Ma vi ho già spiegato Le motivazioni Ovviamente ci vedremo Normalmente mercoledì Ovviamente vi voglio fare Di nuovo tanti auguri Sia per una buona Pasqua Sia per una buona Pasquetta E quindi niente ragazzi Come sempre Lasciate un like Commentate Condividete Mettete di piace Alla pagina Facebook Mercato Non ve l'ho fatto dire Perché come già vi avevo detto Non avrei fatto altre mosse A meno che adesso Non mi compare Che posso prendere Messi A zero E quindi niente ragazzi Come sempre Un saluto a Mike94 Grazie sempre per tutto E anche ovviamente Un saluto da Football Manager Italia Che poi sarei sempre io Quindi niente ragazzi Ciao ciao Ciao